Le tipologie sono tre, abbiamo il servizio pubblico, quindi statale, abbiamo il servizio che lui definisce non profit, quindi comunque volontario o comunque non a scopo di lucro e invece il settore privato, cioè a scopo di lucro. Le cure mediche nella loro globalità sono pubbliche, pubbliche o non profit, quindi di tipo volontario, assistenziale, eccetera. Si sta sperimentando adesso il ricorso a provider di tipo privato nell'assistenza a lungo termine e si vedrà quali sono i risultati, lui dice potrebbero anche non essere necessariamente positivi, potrebbero avere un impatto negativo, però si vuole vedere se riescono a contribuire.